Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi della mia TBR in vista della Reading Rush di settimana prossima. Infatti dal 16 al 19 di aprile si terrà questa maratona di quattro giorni per leggere assieme. Molto brevemente, che cos'è la Reading Rush? È appunto una maratona di lettura, in genere si tiene d'estate, almeno i due anni precedenti a cui ho partecipato erano sempre verso luglio, e prima si faceva chiamare Book The Ubaton, mentre adesso è appunto la Reading Rush. C'è questa diciamo edizione straordinaria adesso ad aprile per incentivare le persone a rimanere a casa e appunto a leggere, comunque a modo come un altro per intrattenere un po' le persone e cercare di farle svagare. Per tutte altre info vi rimando comunque all'account ufficiale che trovate linkato qua sotto in descrizione. Ovviamente ognuno può leggere quello che vuole, libri, fumetti, uno, cinque, non ci sono limiti, ma ci sono diciamo delle sfide da rispettare. Nel caso di quest'anno le sfide sono leggere un libro con una casa in copertina, leggere un libro nello stesso posto per tutto il tempo di lettura, leggere un libro ambientato in un posto in cui vorresti andare, e infine leggere un libro che ti farà sorridere. All'inizio in realtà le challenge erano diverse, non voglio soffermarmi troppo su questo aspetto, io ero andata molto molto in crisi, perché una delle consegne era leggi il libro che ti porteressi su un'isola deserta. E questo mi è messo in crisi perché in quattro giorni io non riuscirei mai a leggermi un libro che mi porterai su un'isola deserta. Se potessi scegliere soltanto un libro da portarmi, sceglierei il più lungo e il più immenso possibile, sicuramente in quattro giorni non l'avrei mai letto. Però vabbè, queste sono le consegne aggiornate, quindi partiamo. Io in queste ultime settimane ho filmato il Bookshelf Tour, che se vi siete persi trovate nelle schede qua sotto in descrizione, quindi ho avuto modo di rivedere tutti i miei libri e fumetti, e trovarne uno con una casa in copertina è stato difficilissimo. Ce n'era in realtà un vero e proprio libro con una piccola casa in copertina, un libro del mio fidanzato, che non è proprio nelle mie corde. Per fortuna ho trovato questo fumetto fan di Paolo Bacilieri, che ha una serie di palazzi, di condomini, di edifici in copertina, e quindi ce li facciamo andare bene come case. Questo è uno di quei fumetti che ho da anni, 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 non ho mai letto, nonostante il tema mi incuriosisca molto, perché in questo fumetto si parla della storia dei Cruciverba. Quindi sono contenta di leggerlo finalmente. Per quanto riguarda invece la lettura da fare nello stesso posto per tutto il tempo, sono indecisa se leggere qua nello studio, perché settimana scorsa abbiamo fatto un po' il makeover di questa stanza, abbiamo riordinato, abbiamo creato un posticino proprio qua davanti a me, che secondo me è top per leggere, perché c'è la poltrona, c'è un tavolino, c'è la pianta, e da proprio sulla libreria, c'è la vista libreria, quindi secondo me è spettacolare. Mi piacerebbe quindi leggere lì e in particolare leggere questo manga, Don't Like This, di Kaori Tsurotani. Questo in realtà potrebbe anche rientrare nella consegna, leggi un libro che ti farà sorridere, perché secondo me le premesse sono molto interessanti. Praticamente la protagonista è una game designer, se non sbaglio, che si avvicina al mondo della pesca. Mi fa molto sorridere come cosa, perché io sono una grande appassionata di tutto ciò che ha a che fare con l'acqua, il mare, i fiumi, i pesci, ma soprattutto da quando è uscito Animal Crossing, la mia personale passione per la pesca del gioco è incrementata tantissimo, cioè a me piace molto pescare in Animal Crossing, dal vivo non lo farei mai, non sarei nemmeno capace, però in Animal Crossing sì, perché con i pesci che rivendo mi ci pago il mutuo, quindi è per una buona causa. Scherzi a parte, sono molto curiosa di leggere questo manga ed essendo una lettura abbastanza breve, conto di finirlo in una mezz'ora 40 minuti, posso stare benissimo sulla poltrona senza nemmeno alzarmi. Per quanto riguarda invece il libro ambientato in un posto in cui vorresti andare, ovviamente Giappone, 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 solo Giappone, ero indecisa fra due romanzi di Murakami, perché è un autore di cui ho letto soltanto dei racconti, e quindi non mi sono ancora fatta una vera e propria idea di quest'autore, ho diversi suoi romanzi qua a casa, come ben sapete, ma non ne ho ancora letto uno, e quindi ero indecisa fra Norwegian Wood e quello che poi in realtà ho scelto, ovvero l'incolore Tazaki, Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio. È una storia che da quanto ho capito parla di amicizia e sono molto 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 curiosa di conoscere appunto Murakami. Questo libro in particolare mi era stato consigliato tantissimo da un'amica, proprio per la tematica affrontata, quindi penso possa essere il buon punto di partenza per non prendere proprio Norwegian Wood, che è uno di quei libri un po' forse atipici dell'autore, almeno così mi è stato detto, quindi speriamo bene. Per il libro invece che ti farà sorridere, potrei benissimo tenermi Don't Like This, perché sono sicura che sia una lettura di intrattenimento abbastanza spiritosa, però nel caso in cui io riesca effettivamente a leggere i tre titoli precedenti, vorrei tantissimo leggere Amrita di Banana Yoshimoto. Anche questo potrebbe rientrare nei libri ambientati in un posto in cui vorresti andare, ovvero il Giappone, però è tantissimo tempo che non leggo qualcosa di Banana Yoshimoto e quindi fra i tanti che ho qua in libreria ho scelto Amrita, che in realtà è anche più grosso, quindi forse non ho fatto la scelta migliore, però in realtà è un libro che mi consigliate sempre tutti, tutti sempre! C'è qualche libro di Banana Yoshimoto che mi consigliate, che secondo voi dovrei leggere, mi dite sempre Amrita, è il vostro preferito, quindi vediamo, conosciamolo, scopriamolo insieme se mi piacerà, e mi strapperà un sorriso sicuramente il ritrovare la scrittura di Banana Yoshimoto, che è una delle mie autrici preferite. Questa è quindi la mia TBR per la Reading Rush, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti se parteciperete anche voi, che cosa leggerete, io ammetto che quest'anno sono più presa bene delle volte precedenti, ho convinto il mio fidanzato a partecipare, penso di essere riuscita a convincere anche mia sorella a partecipare, sono due persone che leggono non tantissimo per via di tempo e altre cose, quindi partecipare a una maratona di lettura per loro è veramente... e io sono super super contenta di averli coinvolti, perché sarà bello condividere questa esperienza anche con loro, quindi niente, tutto qua, sono molto felice di questa cosa. Io spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!